Quando fu abbandonata io le stavo vicino lei chiese una croce un inglese che stava lì accanto ne fabbricò una con dei pezzi di legno poi se la messe sul petto tra la carne e le vesti mentre faceva questi atti di devozione io fui sollecitato dagli inglesi dicevano a me che la confortavo sul patibolo allora prete ha intenzione di farci pranzare qui dicendo al boia fai il tuo lavoro